Sono le parole del Presidente della Fondazione Conil Sud che mettono in risalto il valore del progetto L'Officina dell'Inclusione realizzato dall'Associazione Una Speranza ODV La storia del Sud, ha detto il Presidente Carlo Borgomeo, è piena di fondi dati ma con scarsi risultati Sono io a dover ringraziare voi, ha proseguito il Presidente della Fondazione Conil Sud per aver realizzato un progetto che funziona, esiste, è vivo ed è capace di produrre effetti importanti grazie all'impegno messo in campo da chi lo ha realizzato Queste parole sintetizzano il grande lavoro svolto dall'Associazione Una Speranza e dai partner dell'iniziativa che hanno creduto nella bontà del progetto ed hanno consentito che l'Officina dell'Inclusione potesse effettivamente realizzare gli obiettivi prefissati Questa mattina presso la sede del Centro di Urno Una Speranza si è tenuta la presentazione ufficiale dei risultati del progetto a due anni dalla sua attivazione avvenuta nel febbraio del 2021 L'evento, moderato dal giornalista Pino Delia, ha visto la presenza dei referenti degli enti che hanno collaborato all'iniziativa partendo da Gianfranco Santo Paolo della cooperativa Natura Solidale Don Vincenzo Federico, Presidente di Una Speranza Antonio Florio, Direttore del Consorzio Sociale Piano di Zona S10 Vallo di Diano Tanagro Alburni Antonio Autuori, Presidente della Fondazione Comunità Salernitane oltre che di Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione Coril Sud che ha sostenuto il progetto A concludere i lavori, il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania l'Onorevole Franco Picarone Nell'ambito della realizzazione del progetto, coordinato da Marianna De Vita gli operatori in campo hanno lavorato al fine di sviluppare iniziative integrate tra di loro e tutte finalizzate a stimolare e a promuovere il concetto dell'inclusione prendendo come riferimento i comuni afferenti al Consorzio Sociale Piano di Zona S10 Dopo il convegno è stato possibile prendere visione di alcune delle attività realizzate portate avanti attraverso il progetto come la fattoria didattica e il punto ventita e punto degustazione di natura solidale un progetto che in ambito di attività di inclusione ha visto la partecipazione anche dei ragazzi delle scuole di Sala Consilina al progetto officino dell'inclusione e all'evento in programma questa mattina hanno infatti partecipato anche i ragazzi delle classi terze dell'indirizzo agrario dell'Istituto Cicerone nell'ambito dell'attività di ampliamento dell'offerta formativa I Fiori della Speranza valido anche come PCTO Grazie a tutti